Nella direzione di ieri del Partito Democratico, Elie Schlein ha descritto un punto fondamentale che manca a questa posizione. Trovare punti comuni. È una pratica che sembra sconosciuta ai partiti che si oppongono a questo governo, battagliando più contro gli altri partiti della minoranza che contro le pericolose idee. Di un governo che odia i poveri, odia i magistrati, odia la comunità LGBTQ+, odia i sindacati, odia i dipendenti pubblici, odia gli antifascisti e odia l'opposizione. Non ci vuole molto per intuire che l'idea di Schlein sia quella di costruire un campo progressista che tenga insieme il Movimento 5 Stelle, Verdi e Sinistra, e tutti coloro che credono che esista un'alternativa politica alla mocchiata di postfascisti, sovranisti, liberisti travestiti da liberali e compagni accantanti. Le scelte da poter prendere sono due. Si può decidere di continuare sulla strada dei distinguo, ognuno concentrato sul proprio orticello, regalando a Meloni una prateria di governo per i prossimi anni. Oppure ci si può prendere la responsabilità di riconoscersi diversi, ma con l'impegno di costruire un'alternativa. Terzium non datur. Rimane nel PD latavico problema di una minoranza interna che tutti i giorni rinfocola le critiche della destra per logorare la propria segretaria e i possibili alleati. Se a qualcuno questa linea non piace, lo ammette e non trovi altre scuse, ha detto Schlein. Ci permettiamo di aggiungere una frase. Vadano dove devono andare, insieme alla destra. Il campo sarà più chiaro e il Paese ne gioverà.